E allora due parole per introdurre il professore e per salutare e poi iniziamo con il nostro seminario. Ben ritrovati e ben ritrovati, questo è il secondo incontro che facciamo e che si inserisce in questo ciclo seminariale che è dedicato alla comunicazione innovativa, multimediale e digitale. Ci siamo già detti nel primo incontro che c'è un tema sotteso, un filo rosso a questi incontri a cui insieme partecipiamo che è quello dello spazio del femminile. Nel primo incontro, quello di lunedì scorso, la professoressa Chiais ci ha guidato attraverso la lingua della moda e ci ha così mostrato come le influencer in questo momento storico agiscono la lingua della moda e agiscono il codice della moda. Abbiamo anche scoperto che la figura degli influencer non nasce negli ultimi dieci anni e che non nasce con la figura femminile. Stasera cambiamo argomento, rimanendo comunque nello spazio delle donne. Ci spostiamo in un argomento assai complesso, non fosse che perché sono stati versati e si versano quotidianamente fiumi di inchiostro rispetto a quella che è la lingua della politica, che è molto cambiata nel tempo, è molto cambiata nelle modalità di esplicazione, quindi le modalità di linguaggio verbale ma anche di linguaggio non verbale. Io ho in mente, e se fate una rapida ricerca online la trovate facilmente, una fotografia di Aldo Moro che era al mare con la famiglia, quindi con la famiglia e bambini vestiti con il costume da bagno, Aldo Moro vestito con il vestito istituzionale perché riteneva che essendo per l'appunto una figura istituzionale doveva comunque rappresentare lo Stato anche quando era al mare. e ovviamente altre fotografie di altri politici al mare che pur dovendosi rappresentare e volendosi rappresentare assumevano una forma del tutto diversa, quindi una lingua che cambia, una modalità di rappresentarsi che cambia ed è importante il codice linguistico verbale e non verbale che utilizzano perché non solo costruiscono i messaggi ma costituiscono anche le figure che vogliono esibire rispetto ai propri destinatari che sono gli elettori. Stasera il professor Filetti, che gli studenti di scienze della comunicazione conoscono molto bene perché è il loro docente di tecnologie della comunicazione per il web e che è anche, scopro, un esperto della comunicazione politica, se ne occupa già dai tempi della sua tesi ci offre una panoramica su un caso particolare. Io ringrazio il professore e mi taccio velocemente. Grazie. Grazie, grazie per l'invito innanzitutto e anche per l'introduzione e buon pomeriggio a tutti e a tutti. Sì, il tema di oggi è un tema interessante, spero che vi appassioni. Io, appunto, la mia tesi di laurea in scienze della comunicazione un bel po' di anni fa fu proprio in comunicazione politica in un periodo ovviamente completamente differente da tutti i punti di vista e anche dal punto di vista della comunicazione, nel senso che iniziavano ad essere utilizzati in maniera più strutturale, più sistematica i mezzi di comunicazione, ma prevalentemente ancora i mass media e non ovviamente non c'erano ancora i canali social, ma già il web iniziava, diciamo, ad avere un suo impatto. Ecco, diciamo, l'incontro di oggi io l'ho strutturato in questo modo. Ovviamente abbiamo appunto il filo rosso dell'identità di genere, delle donne, quindi abbiamo, tra l'altro, ne abbiamo approfittato perché abbiamo per la prima volta due donne che rappresentano, diciamo, la politica in maniera estremamente significativa. Da un lato la prima, presidente del Consiglio, come si lascia definire appunto non presidentessa, rappresentante del Consiglio dei Ministri, che è una donna, appunto, Giorgia Meloni, e poi abbiamo per la prima volta la segretaria del Partito Democratico, che è una donna. E quindi, approfittando anche di questo momento storico, ho fatto un'analisi, quindi molto tecnica, su alcuni aspetti che caratterizzano proprio la comunicazione che avviene, quindi come la fanno le imprese, come la fanno le istituzioni, lo fanno anche, ovviamente, i personaggi, i personaggi politici. E quindi, vedete l'indice che vi propongo, la prima parte andrò a raccontarvi cosa avviene quando si fanno delle ricerche online, rispetto, ovviamente, appunto, ai due personaggi oggetto dell'incontro di oggi. Poi ho analizzato i loro siti web, quindi in che modo si presentano, quindi il sito web è, tutt'oggi, il biglietto da visita di un'azienda, o in questo caso, appunto, di un personaggio politico. E poi, ovviamente, la parte più significativa, inevitabilmente, perché fanno parte del nostro quotidiano i social network, quindi in che modo approcciano i social network. Quindi, ovviamente, è anche, come dire, superfluo evidenziarlo, ma non c'è una valutazione di merito, ma di, proprio, da un punto di vista tecnico, in che modo loro si propongono, quali sono gli elementi che caratterizzano la comunicazione di queste due donne. E poi, visto che è un tema, come dire, molto attuale, ne parlerò anche con una lezione ad hoc durante il mio corso, durante il secondo semestre all'università, di intelligenza artificiale, quindi ho fatto un piccolo esperimento con l'intelligenza artificiale, utilizzando, appunto, i nomi delle due leader e poi delle conclusioni. Ovviamente, sono contento, se mi farete nel corso dell'incontro, le domande. Quindi, partiamo dall'inizio. Quindi, come dicevamo, un confronto basato sul tema dei motori di ricerca. Come sappiamo, i motori di ricerca sono, diciamo, gli strumenti che noi oggi utilizziamo, se vogliamo informarci, se vogliamo avere anche una rapida informazione, ovviamente, adottiamo i motori di ricerca, motori di ricerca in modo testuale, oppure con le ricerche vocali, ormai anche questo è un trend molto in voga, e abbiamo, diciamo, dei risultati. Quindi, io ho fatto un esperimento, proprio molto pratico. Quindi, andando a digitare il nome e il cognome, nel primo caso è Giorgio Melone, nel secondo caso di Alice Lane, cosa avviene? Quindi, abbiamo innanzitutto una... Quindi, questo, da un punto di vista tecnico, che vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente, ovviamente, la ricerca che noi facciamo ci restituisce dei risultati, e questi risultati sono basati su tutto quello che tendenzialmente viene mappato da tutti i motori di ricerca rispetto a quella stringa di testo, in questo caso Giorgio Melone, oppure Alice Lane. Innanzitutto, ovviamente, vedete la differenza dei risultati, evidentemente, perché Giorgio Melone, innanzitutto, c'è da molto più tempo in politica, utilizza il web da molto più tempo, ovviamente, di Alice Lane, e allo stesso tempo, essendo anche presidente del Consiglio, comunque leader del partito che ha anche vinto le elezioni, ha una popolarità rispetto proprio all'utilizzo di tutti i vari canali digitali, che consente di arrivare a dei risultati che sono poco più del doppio di quelli nel momento in cui andiamo a digitare il nome della segretaria del Partito Democratico. Poi cosa vediamo? Ecco, questo è l'aspetto, a mio avviso, più interessante, al di là, ovviamente, che Wikipedia la fa da padrone, quindi questo è l'elenco dei primi risultati che emergono, quindi proprio in ordine, quindi Wikipedia per entrambi è il principale canale di riferimento nel momento in cui io voglio sapere qualcosa sull'una o sull'altra. Ma un aspetto che già ci dà una prima indicazione sulla strategia di comunicazione, ma anche sull'impatto che hanno gli strumenti adottati dalle due leader, che il secondo risultato è, proprio nel caso di Giorgio Meloni, il sito web del Presidente del Consiglio, perché evidentemente è un sito web comunque che è ben indicizzato per certi versi, ha tanti contenuti e quindi all'interno di questo sito web il nome e il cognome di Giorgio Meloni risulterà, diciamo, spesso in maniera quantitativamente significativa, quindi ho questo risultato. Altro aspetto, che poi vedremo anche dopo, è che, ad esempio, il primo canale social che compare è Facebook, e non è un caso, ma non voglio anticipare, ma vi dico soltanto un'informazione, che Facebook è il canale con la maggiore longevità per quanto riguarda l'utilizzo da parte di Giorgio Meloni. Nell'altro caso, invece, il primo canale social che emerge per quanto riguarda la Secretaria del Partito Democratico è Twitter, evidentemente per chi viene più volte, non solo da lei, ma anche da altri, ovviamente citato il suo nome. Poi che succede? Quando io faccio delle ricerche, abbiamo delle ricerche dei risultati correlati, e questo è molto, diciamo, fa anche un po' sorridere, nel senso che sia in un caso che nell'altro, quello che ho riscontrato è anche la, diciamo, la tipologia di ricerche che vengono effettuate online dagli utenti. Quindi, per intenderci, le ricerche online sono la domanda, cioè chi fa delle richieste, quindi se fosse proprio parlando di mercato, abbiamo la domanda. L'offerta è quello che propongono, in questo caso, non delle aziende, ma due leader politici, rispetto alla platea di tutta l'utenza online. E quindi le domande che spesso vengono fatte sono anche molto, in qualche modo, come dire, un po' da gossip, un po' che riguardano l'intimità di queste persone, che vedete, Giorgia Meloni divorziata, Giorgia Meloni marito, e qui è uno dei pochi aspetti nell'analisi che ho fatto dove si riscontra, secondo me, un qualcosa che riguarda il fatto che presumibilmente questa tipologia di domande viene effettuata proprio perché abbiamo di fronte due donne politiche. Poi, anche con i leader maschili avviene qualcosa di simile. Però, guardate, non c'è quasi neanche, anzi, soltanto un elemento, vedete qua su 8, non c'è nessun elemento che riguarda, che ne so, delle scelte politiche del leader del centro-destra, oppure, in questo caso, soltanto Elisla in Ucraina, significa che sono fatte delle ricerche per vedere evidentemente il punto di vista, la posizione assunta dalla segretaria del Partito Democratico rispetto al tema dell'Ucraina. Tutto il resto no, ma vedete vita privata, ricca, altezza, marito, fidanzata, figli, quindi tutte ricerche che vengono effettuate che fanno riferimento più appunto a degli elementi di conoscenza della vita privata delle persone che non tanto a quello che è il, diciamo, il loro orientamento politico, le loro scelte che vengono fatte. E questo, diciamo, a mio avviso, in qualche modo, è anche un po' il segno dei tempi, cioè nel senso che comunque questa commissione tra sfera privata e sfera pubblica c'è un confine molto più labile. Prima l'esempio che veniva fatto dalla professoressa Ferrini, è stato interessante il fatto di dire la foto di Moro che era vestito in un certo modo perché doveva comunque rappresentare lo Stato, era una figura istituzionale. Questo elemento ovviamente oggi si è perso, non c'è più, e di conseguenza anche a volte le scelte stesse che vengono fatte dall'elettorato sono caratterizzate da altri fattori che magari poco hanno a che fare con quella che è la, con quelli che sono le tematiche principali che dovrebbe affrontare o che affronta appunto un politico. E questo, diciamo, è per quello che afferisce al primo punto delle ricerche online. Poi abbiamo, invece, in questo caso, vediamo qual è l'offerta delle due leader, quindi in che modo loro si presentano, in questo caso con il sito web. Abbiamo, vedete, vabbè, abbastanza evidente, a sinistra Giorgio Meloni, a destra Elish Lane, dove fondamentalmente, vediamo ora, io ho fatto una presentazione dove alterno le due leader in modo tale da vedere immediatamente quali sono le caratteristiche distintive e le differenze. Sito web di Giorgio Meloni. Ovviamente vediamo in maniera molto chiara il tema centrale, un tema centrale, quindi l'Italia se destra, c'è un riferimento chiaro al proprio partito, c'è quella che viene definita, lo vediamo anche dopo, con la call to action, cioè il fatto di clicca qui, quella viene definita, perché abbiamo fatto il mio corso lo sa perfettamente, la call to action, ovvero l'azione, l'invito all'azione che viene fatta all'utente che accede a un sito web. È un sito strutturato in maniera comunque organica con una serie di tab che ci consentono di accedere ad altri contenuti e, interessante, il primo tab specifico è quello che riguarda la biografia, dove farò poi un breve focus, sia per l'una che per l'altra. Molto evidente nel sito di Giorgia Meloni anche l'appartenenza, la forte appartenenza al proprio partito, quindi questo è il suo sito personale, tuttavia ci sono chiari riferimenti, ma anche i rimandi, quindi anche una promozione, neanche tanto in diretta, ovviamente, del proprio partito, oppure anche del partito europeo del quale fa parte. Elish Lane ha un approccio diverso. Consideriamo anche un fatto importante, un elemento che però va evidenziato. Ovviamente Elish Lane è segretaria del Partito Democratico da pochissimo, super giù da un mese, quindi ovviamente la comunicazione, come se vince anche non è una comunicazione molto relazionata al Partito Democratico, perché comunque ha una storia anche politica un po' differente. Tuttavia vediamo quali sono gli elementi distintivi. Anche in questo caso c'è un'architettura molto semplice, un'architettura suddivisa in sette sezioni. L'elemento biografia c'è anche nel sito della leader del centro-sinistra, tuttavia non come primo aspetto. Altro elemento interessante è quello che aveva sempre il sito anche in inglese, e questo, diciamo, è un chiaro elemento che evidenzia anche l'approccio che ha Elish Lane. Poi ha varie call to action, variazioni, che invita a fare i propri utenti, che riguarda un po' ancora, diciamo, ancorata a, diciamo, l'attività che aveva fatto in fase di candidatura per diventare poi segretario del Partito Democratico. E poi c'è anche un link all'acquisto del proprio libro, cosa che vedremo anche in questo caso è un punto di contatto tra le due leader. Andando avanti, appunto, focus sulle call to action. Vedete, in questo caso c'è un chiaro invito a tesserarsi al partito. Questo lo fa Giorgio Meloni, cosa che invece non fa Elish Lane, ma che invece vuole, fa un'azione finalizzata a dire, iscrivete alla mia newsletter per rimanere in contatto con me. Quindi c'è un approccio diretto nei confronti, appunto, dell'utente finale finalizzato, diciamo, ad acquisire questa tipologia di informazioni per poi comunicare le attività che svolge da un punto di vista, ovviamente, politico. In entrambi i casi abbiamo un libro, il libro di Giorgio Meloni, dove viene, appunto, promosso sul proprio sito web e lo stesso avviene anche da parte di Elish Lane, con la piccola differenza che nel primo caso è un'immagine dello slider, ovvero dell'immagine a scorrimento che troviamo nell'home page, nel secondo caso, invece, è un link che riporta poi all'acquisto sul sito web della Mondadori. Interessante, dal mio punto di vista, la modalità di proporsi raccontando se stesse. Perché, in fin dei conti, quando io faccio, appunto, una ricerca online, quindi torniamo all'aspetto precedente dell'utente che vuole saperne di più su, o la Presidente del Consiglio, Giorgio Meloni, o sul Secretario del Partito Democratico Elish Lane, allora, ovviamente, una delle azioni possibili è quella di andare sul sito e vedere la biografia per capire meglio, per approfondire un tema. Interessante che la modalità di raccontarsi di Giorgio Meloni si basa, io l'ho voluto sintetizzare in questo modo, sui primati. Questo testo che vedete, che ho riportato in questa slide, è un abstract di informazioni che ritrovate sul sito web di Giorgio Meloni sotto la voce biografia. Quindi, evidenzia che è nato in un quartiere popolare, che ha fatto parte del movimento studentesco, che è un momento per lei importante, anche di scelta politica, è stata immediatamente dopo la strage di Via D'Amelio, un qualcosa che probabilmente avete sentito anche più volte che ha rilasciato durante le sue interviste. Poi ci sono singolare, la prima volta che una donna incinta concorre per l'incarico di sindaco nella capitale. Quindi, vedete, tutti i primati per dire come lei comunque è una donna che ha raggiunto tanti risultati, unica donna leader di un partito politico europeo e di un partito politico italiano e ovviamente, questo è abbastanza noto a tutti, la prima donna della storia a ricoprire l'incarico di presidente del Consiglio dei Ministri. Differente la narrazione della Shalane perché anche da un punto di vista visivo, mentre la Meloni racconta con un testo per quanto sintetico molto diretto, molto semplice e appunto dove è anche abbastanza evidente questa narrazione e questo elenco dei primati, invece Alice Shalane fa una scelta diversa, lo racconta con una sorta di polaroid di foto che poi hanno anche delle didascalie che raccontano da quando è nata dal 1985 fino al 2020 undici momenti salienti della propria storia e quindi le origini anche in questo caso dei momenti personali, il diploma, la laurea, la partecipazione per la campagna per Obama quando fu eletto la prima volta nel 2008 che l'è andata a Chicago a fare da supporto da questa campagna del primo presidente nero degli Stati Uniti d'America, iniziative personali, politiche, diciamo che c'è anche in qualche modo si racconta di più rispetto a delle tematiche, cioè i temi della sostenibilità, gli elementi anche di divergenza in realtà con il Partito Democratico di cui è leader. Questo dico questo è un sito che nasce prima ovviamente che poi si è diventata segretaria perché ci sono anche appunto una serie di aspetti di rottura col partito di cui oggi invece è leader. E infine per chiudere questo è un aspetto proprio prettamente tecnico è l'analisi diciamo SEO che viene fatta con un tool in questo caso dove ci dice in che modo è diciamo indicizzato non con azioni a pagamento ma con diciamo grazie ai contenuti organici e ad altri elementi che concorrono a creare questo indicatore di sintesi il sito della Meloni e il sito dell'Hash Lane e quello dell'Hash Lane diciamo da questo punto di vista tecnico è in qualche modo indicizzato in maniera più corretta perché ci sono meno criticità da correggere che possono riguardare la velocità di caricamento delle immagini piuttosto che i contenuti piuttosto che altri aspetti che appunto vanno in questa direzione veniamo ora quindi abbiamo visto come vengono effettuate ricerche online per avere informazioni sulle due leader come le due leader si presentano con il proprio sito web specificando appunto anche questa differenza non di poco conto rispetto al fatto che appunto la segretaria del partito democratico ha un sito web che nasce prima ovviamente di una forte appartenenza al partito tant'è vero che non c'è una stretta relazione come invece nel caso della Meloni con il proprio partito ma appunto la motivazione secondo me è quella che vi ho illustrato precedentemente vediamo invece come utilizzano i canali social ovviamente partendo da un confronto meramente numerico e di di quella che viene definita fanbase è da questo confronto anche come l'ho rappresentato graficamente piuttosto evidente che la fanbase della Meloni è di gran lunga più significativa di quella della della lane per ovvi motivi nel senso che comunque c'è anche un utilizzo a parte molto più spinto molto più strutturato ma anche da più tempo vengono utilizzati questi canali social ora però entriamo nel metodo perché a mio avviso come dire le metriche rispetto alla fanbase sono degli indicatori importanti quantitativi tuttavia non devono essere e secondo me più andiamo avanti nel tempo sanno sempre di meno gli indicatori principali però ci danno un quadro della situazione oltre al fatto che ci dicono anche quali sono i canali social che utilizzano bene e male come vedete sono gli stessi abbiamo facebook instagram twitter youtube per entrambe come strumenti di instant messaging abbiamo telegram per entrambe l'unico canale in più che utilizza la Meloni rispetto a e tiktok che non viene utilizzato dalla slash lane e direi tendenzialmente è un po' meno utilizzato a sinistra tiktok come 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 canale anche qui ovviamente sempre per una fanbase a confronto quindi un'analisi comparativa vediamo appunto la dimensione che effettivamente è estremamente estremamente differente e questa è basata unicamente sui canali social adottati su 100 fatto 100 gli utenti dei social 90 è la quota della Meloni e il 10% è quella della della slash lane e vediamo anche rispetto ai singoli canali qual è la differenza vedete facebook quanto è effettivamente rilevante per Giorgia Meloni che ha quasi 3 milioni di utenti quindi quasi metà della propria fanbase è focalizzata su quel canale social mentre invece il canale con la fanbase più significativa per la leader del partito democratico è instagram e anche questa differenza secondo me interessante fermo restando che poi alla fine le due principali leader politici femminili in italia e leader politici in generale utilizzano i canali social di Zuckerberg ovvero del gruppo del gruppo meta vediamo ora singolarmente i canali perché sono qui che emergono gli aspetti più interessanti ovviamente dal punto di vista della comunicazione per come si raccontano e per come utilizzano questi canali la fanpage Giorgia Meloni vedete la pagina come sapete bisogna poi indicare che tipologia di pagina è in questo caso pagina personaggio politico in breve ovviamente la sua denominazione presidente del consiglio dei ministri della repubblica italiana ha una fanbase come abbiamo detto di quasi 3 milioni fan 2 milioni e 7 quindi elevatissima ed è un canale social che attivo ormai quasi da 15 anni dall'11 dicembre 2008 quindi sarà una delle prime se vogliamo perché facebook appunto dal 2007 circa è in Italia quindi da subito questo secondo me è un elemento importante da subito ha percepito la rilevanza dei canali social tant'è vero che poi spesso si dice che i canali social abbiano fatto anche la fortuna di alcuni politici come anche nel caso della Meloni ma più che la fortuna sono stati presumibilmente ben utilizzati per certi versi c'è una pubblicazione costante con aggiornamenti quotidiani cioè se vedete il canale social della Meloni io ho fatto un'analisi ovviamente non su 15 anni perché ce l'avevo messo un po' più di tempo ma l'ho fatto sull'ultimo mese ed effettivamente c'è una pubblicazione molto molto significativa è ovvio che c'è un team sicuramente di uno staff che si occupa della comunicazione di Giorgio Meloni cosa utilizza? utilizza foto utilizza grafiche e utilizza video questi diciamo sono gli elementi a corredo dei contenuti di Giorgio Meloni e dopo vi faccio vedere anche un abstract di alcuni contenuti perché lì emergono altri aspetti interessanti proprio sulla strategia di comunicazione che viene adottata perché qui diciamo ancora una fotografia per quanto vediamo alcuni aspetti l'engagement rate cioè è basso piuttosto basso anche se tendenzialmente direi nella media dei canali social perché il punto è perché dico questo lo dico in generale la fanbase è sì un indicatore ma significativo fino a un certo punto perché alla fine su 100 persone che fanno parte della tua fanbase meno di uno poi compie un'azione quindi magari quel messaggio viene anche visualizzato però poi non c'è un'azione diretta fatta per l'azione diretta significa un commento piuttosto che un like eccetera e poi anche lì se vogliamo entrare maggiormente nel dettaglio spesso le azioni che si fanno sui social sono azioni anche che non è che hanno tutto questo significato cioè a dire che i canali social concorrono sicuramente anche presumibilmente alle scelte che fanno degli elettori ma rispetto anche ad altri fattori non possono a mio avviso essere gli unici fattori da prendere in considerazione per dire io ho vinto le elezioni perché sono bravo ad utilizzare i social secondo me non è non è non c'è questa relazione così diretta qual è la content strategy della Meloni su Facebook parla delle progazioni politiche quindi dei risultati ed è anche un po' in linea con quello che abbiamo visto sul sito web i primati raggiunti da Giorgio Meloni negli anni e poi attenzione commenti sui eventi di cronaca ecco questo è uno di quegli elementi distintivi andando in comparazione con i canali social della leader del partito democratico e temi anche diciamo tipici della politica della destra del centro-destra della e soprattutto ma non solo della Meloni quindi il tema è sempre la famiglia viene come dire rafforzato anche attraverso l'utilizzo dei canali social strategia indifferenziata che significa che di fatto i post che pubblica su facebook li pubblica anche su twitter li pubblica anche su instagram che significa che fondamentalmente e questo secondo me è quello che oggi io vedo un po' come limite di questa comunicazione sia dell'una che dell'altra che anche nella casa della chelene bene o male è la stessa cosa ma secondo me è un po' su tutti i politici e spesso anche su tutte le aziende questo è come dire un elemento abbastanza ricorrente il fatto che non c'è una selezione dei contenuti rispetto alla tipologia di utente perché comunque sappiamo benissimo che gli utenti di facebook non sono gli stessi di twitter e non sono in alcuni casi possono essere similari a quelli di instagram ma dal punto di vista anche di caratteristiche anagrafiche sociali eccetera sono differenti quindi è un po' un errore è come se andando su i canali media i media tradizionali la pubblicità che faccio su Rai 1 è la stessa che faccio su Rai 3 non è proprio così perché il pubblico di Rai 1 non è lo stesso di Rai 3 e sempre per quanto riguarda Giorgio Meloni questo schema che vedete è uno schema dove ho sintetizzato a sinistra la tipologia di post post analizzati nella scorsa settimana di marzo ho analizzato cinque post di cui due sono di cronaca due fanno riferimento alle azioni del governo e uno fa riferimento a quello che ho chiamato tema della famiglia perché è un post sulla festa del papà la cosa più interessante è che le reazioni il numero di reazioni più elevato non è sulla politica non è sulle azioni di governo che ha fatto Giorgio Meloni ma è su cronaca e famiglia allo stesso tempo altro elemento che mi ha colpito anche questo molto interessante abbastanza deducibile è il fatto che invece i commenti negativi e positivi attenzione sono sul governo quindi sulle azioni di governo dove da un lato ci sono dei commenti dicendo bravissima Giorgia forza Giorgia avanti così e altri invece anche di forte critica commenti negativi a volte anche commenti pesanti e l'aspetto che mi ha colpito positivamente in entrambi i casi ma soprattutto in questo per una questione unicamente quantitativa è il fatto che tempo fa quando c'era una maturità minore nella gestione dei canali social i commenti venivano cancellati cioè si faceva in modo tale che i commenti non ci fossero invece oggi si lascia tutto quindi c'è un'attività di moderazione dei canali social differente e questo secondo me è un elemento interessante ah altra cosa che prima non mi sono soffermato il naming il nome della pagina di Giorgia Meloni di Giorgia Meloni pagina ufficiale perché perché sicuramente questo è stato un renaming fatto nel tempo perché quando l'avrà creato secondo me non era non necessariamente era così mentre invece vediamo pagina social di facebook scusatemi di Elish Lane innanzitutto il naming Elish Lane 1 forse per chi ne aveva fatto un altro questo però è una mia deduzione pagina personaggio politico qui personaggio pubblico attenzione perché poi dice pagina ufficiale di Elish Lane segretaria del partito democratico quindi ovviamente differenza nell'utilizzo di genere della 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 lingua ma da un punto di vista tecnico non posso non osservare una un elemento distonico nella comunicazione che qua nel breve mi dichiaro lo vedete anche qui in breve pagina ufficiale di Elish Lane e nell'immagine ho ancora lasciato candidata alla segretaria del PD quindi diciamo questo mi lascia pensare che forse non c'è ancora uno staff strutturato alle spalle diciamo della della candidata o comunque c'è una una disattenzione da questo punto di vista pagina social nata nel 2014 quindi sei anni dopo quella della della Meloni la pubblicazione è abbastanza sporadica tuttavia l'engagement rate in questo caso vuoi anche perché i numeri sono più bassi ma comunque un engagement rate più elevato quindi rispetto alla alla Meloni e soprattutto c'è una come dire uno schieramento chiaro nella comunicazione se volete in qualche modo forse un po' più spontaneo e meno strutturato dove ci sono diciamo tutti una serie di temi coerenti con la figura del dell'attuale segretario del Partito Democratico quindi rispetto alla sua militanza e alle tematiche che le stanno più a cuore che in questo caso tra l'altro sono le stesse indicate anche nel sito web quindi la sostenibilità le battaglie per i diritti quindi sono tutte cose dove in maniera molto chiara molto diretta lei si racconta quindi da questo punto di vista diciamo su una pagina social in questo caso io posso capire in maniera immediata quali sono i temi politici affrontati da da Alice Lane anche in questo caso sui social una serie indifferenziata bene o male quello che pubblica su Facebook lo fa anche sugli altri sugli altri canali rispetto a ai temi qui sono tre post che ho individuato vedete in realtà sono due post su incontri istituzionali quindi come racconta quello che ha fatto e un altro è di militanza l'ho chiamato nel senso che non si nasconde di fronte a quelli che sono diciamo i temi che stanno più a cuore in questo caso era la manifestazione di Milano quello per i diritti dei figli che di genitori dello stesso sesso eccetera e vedete che in questo caso tra l'altro ha anche un engagement rate molto molto elevato perché supera il 5% quindi da questo punto di vista rispetto alla platea che ha quindi rispetto agli utenti che fanno parte della sua fanbase in generale degli utenti che la seguono il numero di persone che poi compiono le le azioni è molto elevato e quindi questo sicuramente è un fattore diciamo positivo nella comunicazione dell'Hashlane qui abbiamo Twitter come vedete da un punto di vista anche di brand image come si suol dire è molto coerente bandiera italiana la sua foto istituzionale come presidente del consiglio bandiera italiana la sua foto quindi non ci possiamo sbagliare sicuramente l'account ufficiale di Giorgia Meloni nato un po' dopo rispetto a Facebook ma comunque tanti anni fa nel 2010 quasi 2 milioni di follower un numero segue poche persone come la maggior parte dei personaggi pubblici e politici fanno e diciamo come tipologia di contenuti e come strategia è molto simile a Facebook cioè quello che come dicevo prima quello che trovo su Facebook lo trovo anche anche su Twitter anche qui vediamo ad esempio questi sono gli stessi post che vi ho fatto vedere prima proprio gli stessi utilizzati su Facebook che ritrovo anche su Twitter ovviamente le alcune azioni sono differenti rispetto al canale quindi ho i reply i retweet i like e il numero di views guardate la il post sulla festa del papà dove praticamente c'è questo post in cui la Meloni fa gli auguri a tutti i papà con una foto lei di spalle che vede una fotografia casa propria quindi del compagno con la figlia e ha avuto oltre 500.000 visualizzazioni ed è il post con il maggior numero di visualizzazioni anche qui vediamo che quelli i post relativi alle azioni governative quindi in un caso era anche un post importante c'era un video dove raccontava quello che era successo a Bruxelles durante un incontro con i primi con i ministri delle altre nazioni appunto europee sono quelli che hanno un numero di views più bassi quindi questo in qualche modo torna anche con quell'elemento che avevo detto all'inizio cioè il fatto che spesso c'è anche una curiosità se vogliamo anche un po' morbosa nel vedere alcuni contenuti nel selezionare alcuni piuttosto che altri che hanno poco a che vedere con l'agenda politica fondamentalmente questo è il canale twitter di Elish Lane anche qui c'è quella distonia che abbiamo visto anche precedentemente da un punto di vista di immagine canale nato nel 2011 quindi un bel po' di anni fa poco dopo la Meloni però ad esempio ecco questo da anche un po' il senso che è un canale che Lash Lane che oggi è la sanitaria del partito democratico l'ha utilizzato ovviamente come persona che utilizzava twitter per dare le proprie opinioni su alcuni temi su alcuni contenuti tant'è vero che segue ben 7200 persone un numero molto elevato andiamo indietro 245 la Meloni perché appunto anche in questo caso direi è un utilizzo un po' più spontaneo del canale finalizzato proprio all'utilizzo che posso fare io che fanno anche altre persone che non sono personaggi pubblici anche in questo caso c'è una pubblicazione sporadica e vengono utilizzati molti retweets cioè le retweets contenuti molto in linea col proprio punto di vista di altre persone e qui abbiamo un'altra foto di militanza un tweet scusate di militanza su una manifestazione che era stata fatta a Firenze qui una una considerazione allora vedete anche qui engagement rate molto molto alto 6,4% tantissimo un numero di views molto elevato cioè se pensate la Shlena 160.000 follower un suo tweet è visualizzato è stato visualizzato 379.000 volte la Meloni ne ha un milione e otto un suo tweet è stato visualizzato 562.000 volte quindi c'è una differenza significativa in questo caso c'è un profilo che ha una fanbase molto molto più bassa tuttavia un tweet ha un'efficacia quasi equivalente a quello di un profilo che ha 10 volte la mia fanbase per questo dico attenzione alle metri della fanbase qui da un punto di vista di saggio comunicativa a mio avviso c'è un aspetto che nel momento in cui un canale social vuole essere utilizzato anche per parlare non soltanto alla propria base dovrebbe cambiare perché se io dico che bella piazza oggi a Firenze lo sa chi è o informato o chi è diciamo in linea con quella visione politica ma la persona che non è informata e che magari è anche indecisa su chi votare non capisce quella piazza a Firenze che cos'è perché potrebbe essere qualsiasi cosa quindi secondo me ecco questo aspetto lo riscontro spesso ma non soltanto in politica anche nelle imprese quando non c'è c'è un approccio un po' come dire autoreferenziale bisognerebbe essere un pochino più passato nel tempo di da scarici cioè spiegare se si vuole arrivare a una platea più ampia altrimenti io non capisco di cosa stiamo parlando veniamo poi a Instagram come anche in questo caso vediamo stessa immagine adottata per gli altri canali social anche qui abbiamo un numero di follower significativo un milione e mezzo sempre la stessa ovviamente denominazione ufficiale di Giorgio Meloni presidente del Consiglio di Ministra della Repubblica italiana abbiamo un link che in questo caso riporta molto interessante a una pagina che a sua volta racchiude i link infatti abbiamo link tree sarebbe una sorta di albero di link tutti i link che riportano ai vari canali di Giorgio Meloni e anche a una sorta di brochure sui primi cento giorni del governo o comunque qualcosa di simile che appunto racconta politicamente quello che sta facendo Giorgio Meloni in questo caso le metriche sono più contenute più contenute evidentemente a un canale social che ora non voglio dire è più di sinistra e più di destra perché secondo me è una cosa per nulla veritiera e indimostrabile tuttavia evidentemente un canale social che l'utenza che utilizza Instagram è meno interessata forse anche a questi stessi temi o a questa modalità di raccontare delle cose un engagement rate bene o male come Facebook però appunto ripeto non c'è non ci sono elementi particolarmente significativi anche qui i post bene o male sono sempre gli stessi il canale Instagram invece di di Alice Lane è il canale che all'interno dell'ecosistema social della segretaria del partito democratico è quello più significativo per fanbase ed è anche c'è anche una pubblicazione più ampia più strutturata un utilizzo interessante secondo me di questo canale come vedete anche qui sono tantissimi i profili seguiti 2.368 ma attenzione c'è una cosa interessante che secondo me è anche come dire evidenzia il fatto che sia forse il canale dico forse che non ho intervistato ovviamente la segretaria quindi non lo so che viene in qualche modo è più vicino forse alla modalità di comunicare di questa di questa leader quindi ci sono tante anche sezioni cosa che non ha esempio il canale Instagram di Giorgio Meloni e interessante che la call to action in questo caso è iscriviti al tesseramento partito democratico quindi c'è un richiamo forte al partito di cui lei è segretaria quindi questo secondo me è un aspetto significativo veniamo al canale YouTube allora il canale YouTube di Giorgio Meloni è da un punto di vista di produzione impressionante sono stati pubblicati oltre duemila video in poco più di dieci anni dal 2011 c'è un numero di iscritti molto elevato perché voi considerate che gli iscritti cioè solitamente io vado su un canale vedo il video ma non la necessità di iscrivermi quindi c'è una logica differente rispetto ai fan che per avere aggiornamenti si devono iscrivere eccetera ho avuto su questi video pubblicati oltre 12 milioni di views quindi un numero significativo quello è il numero della media delle views che ho ricavato facendo una semplice divisione il video più visto ha avuto 344 mila views e non è un video di quando lei è presente il consiglio dei ministri ma un video che risale al 2019 e sono state fatte due playlist l'altro aspetto interessante da un punto di vista di come anche c'è di come è strutturata la stagione di comunicazione di Giorgio Meloni è il fatto che se vi andate sul sito web come ci sono i canali social youtube non è considerato un canale social ma è considerato come un media quindi è promosso proprio con questa come se fosse una sorta di tv in qualche modo di Giorgio Meloni questi sono i 4 video più visti e come vedete il più visto è questo con questo diciamo discorso fatto da Giorgio Meloni in Parlamento 4 anni fa è il video maggiormente che ha avuto il maggior numero di visualizzazioni quello che vedete come spot elettorale presumibilmente non è un video con visualizzazioni organiche quindi spontanee ma forse credo solitamente quando fanno diciamo spot così sono diciamo delle campagne a pagamento quindi le campagne su youtube advertising altro aspetto interessante che evidenzia anche la dimestichezza se volete che ha con questi canali Giorgio Meloni è l'utilizzo di short video questi sono ho voluto paragonare i short video durante la campagna elettorale che poi ha vinto nel 2022 con gli short video precedenti come vedete in questo caso c'è la centralità della figura della Meloni anche con un tono appunto molto diretto molto ironico per certi casi vedete il primo video sulla sinistra che poi l'ha pubblicato anche su tiktok fa Giorgia Meloni 25 settembre ho detto tutto con questi due meloni messi là cioè rispetto a una comunicazione che si faceva una volta vedete c'è proprio un timbro uno skill una strategia completamente differente diciamo molto nazionale popolare se volete è molto in linea con una certa comunicazione che si fa sui social non ne faccio una questione né che è giusta né che sia sbagliata mentre invece quando era l'opposizione vede è abbastanza evidente che tutti i video sono realizzati con delle grafiche con questi toni molto diciamo da giornali di cronaca sono incomprensibili e fogli a casa loro la sinistra che difende il neocolonialismo francese diciamo in alcuni casi anche al limite dell'offesa ma con uno stile molto diciamo di comunicazione in qualche modo aggressivo tipico diciamo dell'opposizione Elish Lane vedete anche in questo caso un'altra tipologia di denominazione Elish Lane 371 un canale nato meno di dieci anni fa nel 2014 c'è un numero di iscritti ovviamente più limitato di 5.000 iscritti ha pubblicato un po' di video ma le views appunto sono un poco più di 300.000 anche qui stessa cosa il video più visto non riguarda qualcosa di recente ma addirittura un suo intervento a piazza pulita nel 2013 quindi ben ormai dieci anni fa vedete quindi diciamo in questo caso i video pubblicati da Elish Lane sono comunque invece non c'è un aspetto come dire in qualche modo di propaganda o di comunicazione finalizzata a convincere qualcuno ma sono anche diciamo in qualche modo argomentati o comunque che raccontano diciamo il punto di vista della della leader infine siamo nella parte conclusiva ho voluto fare anche un rapido flash su TikTok che viene utilizzato dalla Miloni anche in questo caso come vedete la comunicazione è sempre la stessa in senso l'immagine sua che è la stessa adottata per tutti i canali social presente il Consiglio dei Ministri come ovviamente denominazione mediche di engagement decisamente più elevate ma diciamo che questo dipende anche molto dalla ehm dalla tipologia di eh di canale social eh e quindi sono una serie di video che eh in qualche modo sono in qualche caso sono i stessi YouTube in altri sono degli estratti con il formato tipico della del del canale social ehm prima di chiudere con le conclusioni ho fatto questo piccolo esperimento che volevo condividere con voi cioè io ho fatto se conoscete il chat di GPT se non lo conoscete comunque è lo strumento che viene l'intelligenza artificiale che eh sta riscuotendo molto successo sta facendo anche molto discutere dove io posso appunto interrogare questo sistema intelligenza artificiale fare delle domande o per scrivere un testo oppure per generare i contenuti e in questo caso io ho fatto una domanda molto semplice a chat GPT nel senso che gli ho chiesto la seguente cosa quali social network utilizza Giorgia Meloni ora non sto qui a rileggervi tutto ma praticamente se io avessi fatto diciamo un seminario chiedendo utilizzando l'intelligenza artificiale con queste domande la risposta sarebbe stata la stessa sia per l'uno che per l'altro con l'unica differenza ovviamente l'inizio dove dice Giorgia Meloni leader di Fratelli d'Italia utilizza diversi social network eccetera eccetera non ci sono diciamo differenze sostanziali ma è un come dire un racconto neutro dell'utilizzo dei canali dell'utilizzo dei canali social interessante invece magari nel momento in cui gli chiedo di fare un una sorta di contenuto discorso su una tematica effettivamente richiama una serie di elementi molto simili a quello che potrebbe essere un discorso scritto o dall'una o dall'altra a questo punto le ultime considerazioni ricerche quindi faccio un recap finale dei contenuti che vi ho raccontato in questa retta di conversazione ricerche agli utenti abbiamo visto che fondamentalmente c'è un aspetto di utilizzo che ho voluto chiamare da gossip del web nel senso tutte le ricerche correlate abbiamo visto come gli elementi informativi richiesti dagli utenti fossero poco concentrati su aspetto politico più su aspetti personali delle due leader interessante dello storytelling di come si raccontano quindi lo stile di narrazione molto differente soprattutto per quanto riguarda la biografia e come si descrivono il tema del partito ovvero che Giorgia Meloni utilizza il sito web come cassa di risonanza del partito è l'icilena ancora no ma presumibilmente perché veramente da poco da un mese circa segretario del partito democratico quali canali abbiamo visto fondamentalmente che le due leader sono accomunate dall'utilizzo degli stessi canali social per quanto ovviamente una fan base è differente l'unica differenza è TikTok utilizzato dalla Meloni e non da Alice Lane da quando abbiamo visto rispetto alla longevità il primo canale social utilizzato dalla Meloni è Facebook che è quello poi con la fan base più elevata l'altro invece il primo canale social aperto dalla Alice Lane è Twitter nel 2011 fan base abbiamo visto che non sono paragonabili per i valori estremamente più elevati che riscontriamo per quanto riguarda Giorgio Meloni andando a vedere Meloni quindi ha un'ampia fan base ma un tasso di engagement che non è elevatissimo non vengono eliminati i commenti critici o scomodi ma ad esempio c'è una forte polarizzazione nei commenti se andate a vedere ci sono delle grandi critiche delle critiche molto puntuali molto evidenti oppure delle grandi dimostrazioni di affetto però questo diciamo in qualche modo è anche la cassa di risonanza di questa tipologia di personaggio politico c'è una strategia indifferenziata nel senso che i canali social vengono utilizzati con i stessi contenuti e in qualche modo possano dire un rapporto identitario col partito per quanto guarda Lashley è una strategia di sonogenea che evidentemente si deve ancora assestare rispetto anche al nuovo ruolo che ha forse come dicevo ovviamente utilizzo presumibilmente non coerente con un'adozione sistematica dei canali social non vi è una differenziazione questo secondo me è un aspetto invece che andrebbe fatto da entrambe le parti rispetto alle tipologie di utenti e quindi dei contenuti che andrebbero differenziati rispetto ai canali i contenuti della Meloni sono appunto abbiamo visto anche su fatti di cronaca per evidenziare la vicinanza alle tematiche relative ai valori del suo partito e anche della sua storia storia personale e storia politica mentre invece nel caso della Shalane c'è un forte richiamo alle tematiche che lei segue la sostenibilità i diritti ma allo stesso tempo un dialogo prevalentemente con il proprio elettorato o con chi ha dei punti di vista simili ma un po' meno con i potenziali elettori vi ho fatto l'esempio di quel tweet sulla piazza di Firenze che però non dava altre informazioni e quindi poteva essere un po' criptico per chi non conosceva quell'evento specifico questione di genere metto un punto interrogativo perché secondo me dopo questa analisi dico non c'è un approccio di genere nell'utilizzo dei canali social da parte di due leader politiche che in questo caso sono due donne bene o male potrebbe essere lo stesso adottato anche invece da politici di genere maschile perché invece ricalcano quella che è la loro storia politica a prescindere a prescindere dal genere la questione di genere se così vogliamo chiamarla la possiamo dire forse più in quella che è la ricerca che viene fatta da parte degli utenti che in quanto donna magari sono incuriositi da una serie di informazioni che non sarebbero le stesse richieste che diciamo non potrebbero non sono assimilabili le stesse richieste che gli utenti fanno nel momento in cui diciamo i politici sono uomini e non donne io ho chiuso ovviamente se mi auguro che ci siano delle domande spero sia stato comunque di vostro interesse io ti ringrazio Vincenzo raccolgo ringraziamenti di tutti immagino potete cominciare a fare domande nella chat mentre faccio qualche saluto ti ringrazio una lezione bellissima ho condiviso ogni sua impressione mentre ci facevi vedere dati io prendevo degli appunti esattamente su questo non c'è l'approccio di genere da parte loro c'è nei nostri occhi cioè siamo noi che le vediamo donne questo è incredibile questo sguardo pettegolo alla ricerca del marito e quindi assolutamente interessante intanto faccio domande io e mi dà no c'è giù una domanda allora mi faccio un passo indietro lezione veramente interessante interessantissima addirittura grazie grazie bene Stefania per le domande continuate a raccoglierle nella chat concordo assolutamente che c'è proprio una differenza totale nella rappresentazione del sé anche nella comunicazione che concordo sempre con te dal punto di vista di Meloni è l'individuo e si vede anche nella biografia lei primo piano mentre l'altra le oppone una platea quindi individuo su gruppo sempre sì anche anche forse questo non l'ho evidenziato l'hashtag utilizzato dall'ashlane è un hashtag che parla del noi della comunità quindi di una condivisione secondo me diciamo appunto per certi versi io penso guarda analizzando ora questa è un'analisi anche piuttosto istantanea no? che riguarda questo periodo eccetera quindi sarebbe interessante poi rivedere un po' a distanza di tempo secondo me per certi versi c'è un po' anche una esagerazione da parte dei giornalisti e dei media a dire che i canali social poi vanno a influenzare le scelte elettorali secondo me non è vero cioè secondo me lo è veramente parzialmente e questo secondo me è anche un po' il frutto di una conoscenza tecnica non così strutturata da parte degli addetti ai lavori nel senso che fondamentalmente si vada a vedere no? sai succede questo mi permetto di fare un parallelismo anche con le aziende le aziende che investono magari dei soldi in canali social poi non hanno i risultati sperati no? e questo in qualche modo che ovviamente genera frustrazione e oggi c'è un po' di pensamento perché poi se ci pensi ormai i canali social sono più di 15 anni che ci sono in Italia dico in realtà sono ormai più di 20 anni perché tra LinkedIn e YouTube abbiamo superato i 20 anni quindi c'è anche una maturità dei canali social per tanti versi per l'utilizzo quindi a volte c'è anche una una lettura eccessiva dell'influenza che hanno i canali social i canali social hanno per certi versi reso democratico l'accesso per le imprese per chiunque oggi può aprire poi c'è chi va bene e chi va male tuttavia oggi i valori che devono essere presi in considerazione non possano essere soltanto remetri abbiamo visto cioè se tutti quanti quei fan dovessero cioè meno dell'1% dei fan della Meloni commentano la Meloni e anzi ancora di meno perché tanti di quelli che commentano non saranno manco fan della Meloni perché quelli che la criticano presumibilmente non lo sono neanche certo per cui alla fine da un lato è una grande opportunità dall'altro secondo me in alcuni casi ad esempio per la Celene può essere una grande opportunità tuttavia va strutturata io credo una comunicazione un po' differente proprio per aprirsi e far capire delle 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 motivazioni a un pubblico differenti la Meloni secondo me è stata molto brava negli anni all'opposizione però è una concomitanza di fattori che come qualsiasi strategia di comunicazione non si può basare soltanto su un mezzo sono più mezzi poi su Facebook ci sono certi utenti su Instagram ce ne sono degli altri su Twitter degli altri ancora quindi anche questo però invece su YouTube ancora altri quindi ci sono tutti oltre al fatto che l'utilizzo dei social utilizzo anche multitasking io guardo un canale social mentre faccio un'altra cosa quindi c'è quel livello di attenzione come prima ti riportavo tanti anni fa quando si facevano gli incontri da Costanzo tu per tu erano una cosa meravigliosa di grande passione oggi se ci pensi anche su tutte le ultime lezioni voi anche per il periodo strano rispetto agli altri effettivamente quelle si sono basate soltanto sui social allora in quel caso lì tu devi essere bravo a fare comunicazione poi in un'ottica di ormai comunicazione permanente pensavo quando io fece la testa il 98 parlavo di stagione comunicazione permanente ma non avrei mai immaginato una cosa del genere oggi c'è per forza perché tutti i giorni ci sono i canali social però ad esempio Giorgio Meloni io credo che sia molto brava a cavalcare certe cose avete visto quei post quello secondo me dà un po' la cifra cioè i post che parlano delle azioni di governo sono meno seguiti dei post che parlano della festa del papà quindi lei cerca questo anche dal punto di vista però mixa non fa solo una cosa lei fa un mix fa un mix di contenuti e questa è una stregente di gente soprattutto su facebook tutto su facebook su instagram secondo me di meno infatti le medie che sono più base su twitter secondo me non c'è il suo pubblico parliamoci chiaramente ma su facebook questa cosa va benissimo cioè ci sono dei commenti molti negativi che restano lì ma ce ne sono alcuni positivi che sono da commenti come di un teenager che si esalta per un cantante quindi questo aspetto su questo aspetto mi va dato merito nell'avere utilizzato e quel commento fatto da bastando avere 5-6 profili vai a vedere non lo sta facendo un teenager sta facendo una mia età quindi significa comunque aver stato l'asse in un certo modo e questo è secondo me un po' da prendere in considerazione nel momento in cui si fa una strategia di comunicazione ovviamente senza fare l'errore di voler dico una parte politica che vuole utilizzare i social come l'altra parte ognuno rispetta la propria identità e lcln per esempio racconta molto bene la sua identità sui canali social ma l'ha fatto sempre come figura politica tra virgolette indipendente oggi ha la sfida di farlo come leader di un partito e il fatto che già su instagram abbia inserito quell'elemento secondo me va credo le mie sono tutte deduzioni magari sono completamente errate però la mia deduzione è quella che evidentemente sta andando in quella direzione sono due modi poi lascio lo spazio alle domande sono due modi di comunicare diversi sono d'accordo la meloni cerca il corpo a corpo anche linguistico ti ricordi appena vince la sheline fa quel commento dice anche stavolta non ci hanno visto arrivare e lei fa il riferimento a un testo di una femminista americana che era una monografia che si chiamava così però non ci hanno visto arrivare qualche tempo dopo lo riprende la meloni e dice l'ho cercato mentre parlavi voglio dire alle donne di questa nazione che il fatto di essere sempre quasi sottovalutate è un grande vantaggio perché si spesso non ti vedono arrivare cioè lei cerca il tu è certo è tanto diverso da non ci hanno visto arrivare no lei cerca proprio un corpo a corpo concordo ne potremmo parlare ora ma lascio spazio eh voglia allora ci sono esempi nel programma politico italiano o estro di modi di utilizzo particolarmente efficace dei social network tra cui ad esempio la differenziazione dei contenuti tra le varie piattaforme sì allora sicuramente in passato ti dico chi fa la domanda Maria Grazia ehm ad esempio Obama è stato un esempio straordinario nell'utilizzo della della comunicazione è pur vero che in un momento in cui ad esempio Twitter era uno dei canali principali di comunicazione oggi il ragionamento va fatto in maniera un pochino più complessa rispetto anche a come stanno cambiando i social network quindi hanno delle caratteristiche con efficacia differente e cambieranno sicuramente ancora di più tuttavia sicuramente Obama secondo me è stato molto bravo come esempio italiano Renzi secondo me Renzi è stato bravissimo nell'utilizzo dei canali social secondo me è stato questo lo ha aiutato molto più che altro è stata una sorta di metacomunicazione cioè comunque se posso come un grande innovatore un po' copiando Obama perché veniva un pochino dopo per esempio l'utilizzo di twitter sicuramente è stato uno che ha stato ganato molto Renzi facendo una comunicazione un po' più diretta eccetera poi social network può essere anche un boomerang abbiamo anche dei esempi di lo stesso Salvini prima andate in un certo modo poi come dire per questo dico c'è voglio citare Baumann la società comunque è naturalmente liquida che cambia tutto in fretta cioè non ci può essere un'affermazione che la Meloni ha vinto grazie a social network che poi non ha vinto per n motivi che lasciano i politologi illustrare tra i quali forse una delle prime cose che era l'unico partito all'opposizione poi che sappia secondo me io dico da un punto di vista ovviamente faccio sempre considerazioni tecniche da un punto di vista tecnico soprattutto su alcuni canali su noi facebook youtube li utilizza molto bene li utilizza molto molto bene e anche la crossmedialità il sito web che riporta tante cose anche là lo utilizza molto bene mentre invece ad esempio nel caso della Shalane io credo che sul sito web possa fare molto di più è molto bella ad esempio la biografia è molto bella la biografia della Shalane se la vedi è bella però l'estetica serve poco per avere consenso la biografia a Milone è molto schietta molto diretta molto semplice ti arriva cioè capicito tu dici ah però cavolo questa mia dal quartiere popolare è la prima donna comunque poi ci sono anche elementi lì come dire oggettivi nel senso il fatto che è la prima donna che sarà presente nel Consiglio dei Ministri è un fatto oggettivo che nessuno gli potrà mai più togliere quindi questo ormai è un punto a suo favore a prescindere e se giocherà sempre fino alla fine della storia della politica inevitabilmente ma è ovvio chi è che non lo farebbe per cui secondo me ci dovrebbe essere un approccio per certi versi un pochino più come dico io statunitense se andate nei musei in America vi spiegano anche chi è se c'è un'opera di Dante Alighieri vi spiegano chi è Dante Alighieri non lo vanno per scontato che tutti quanti sanno chi sia Dante Alighieri è ovvio che noi siamo italiani bene o male un po' tutti sappiamo chi è Dante Alighieri invece l'approccio deve essere quello che non necessariamente io lo so e questo diciamo è un pochino un errore se vogliamo soprattutto della parte di sinistra che nella comunicazione dà per scontato certe cose ad esempio Renzi quando ha fatto la sua comunicazione questo errore secondo me non lo faceva era molto chiaro molto diretto e quindi questo altri che sicuramente sono stati molto abili nell'utilizzare i mezzi di comunicazione sicuramente il caso di 5 Stelle ovviamente è un altro caso in particolare con Grillo che è stato un dirompente con la sua comunicazione per cui anche lì lì però c'è un mix tra contenuto e contenitore ecco però mi fa mi sorprende tuttavia vedere come anche canali appunto così importanti come quelli del Presidente del Consiglio dei Ministri che ad esempio questa strategia indifferenziata per me è un punto di debolezza piuttosto incomprensibile fantastico altra domanda mi colpiscono i numeri dei followers rispetto a quelli dell'engagement come possiamo spiegare questo fenomeno? ma è molto semplice i follower allora oggi quando vi capita anche a voi qualcuno vi chiede di mettere un like a una fanpage piuttosto che un'altra cosa è un secondo non devo spendere un centesimo è tutto gratuito e questo diciamo fa unicamente la fortuna delle delle di meta e delle altre società di google eccetera per cui è ovvio che come dire è un'azione talmente semplice talmente immediata talmente banale che viene fatta cosa differente è fare un'azione cosa ancora più differente è fare un acquisto cioè nelle imprese ok un'impresa c'hai diecimila fan bene quanti dei tuoi contenuti danno delle reazioni l'un per cento di questo un per cento quanto poi va lì sul tuo e-commerce compra lo 0,05% lo stesso è nella politica cioè quindi il basso tasso di engagement ovviamente con numeri cose elevati anche l'un per cento è una percentuale importante parliamoci chiaramente perché parliamo di 2 milioni e 7 l'un per cento è tanto tuttavia come dire in generale il tasso di engagement è un tasso basso cioè anche quando voi fate vi do questo numero in generale che è stata dalla comunicazione quando fate una campagna di comunicazione a pagamento una campagna sponsorizzata quelli sono quelli sono i risultati cioè ogni mille fan che visualizzano un contenuto l'un per cento fa un'azione quindi e parliamo di azione a pagamento ancora di più ormai con la pubblicità di google è lo stesso diciamo gli indicatori di performance sono quelli quindi quello non è strano la cosa fine domande ma alla fine vi dico la domanda che mi sarei voluto aspettare bene te ne leggo un'altra analisi veramente molto interessante visto il ruolo politicamente rilevante di Elish Line riterebbe appropriato ampliare la sua fanbase per aumentare la portata dei suoi messaggi e un rebranding in ottica più istituzionale c'è il rischio che possa portare più danni che beneficia l'ampliamento della fanbase in questo caso attirando antipatie scandali shitstorms no secondo me ormai diciamo che sono piattaforme che utilizzo per parlare un po' a tutti cioè più ampia dovrebbe ampliare secondo me è aspettabile anche per lei che venga ampliata la sua fanbase poi quando ci sono delle come dire delle radicalizzazioni ovviamente non potrei mai convincere un un elettore convinto della Meloni a votare e viceversa ovviamente come sempre tutto si basa sugli indecisi e sempre di più cioè quando anche perché si vota sempre di meno e ci si avvicina sempre di più ahimè a un modello americano quando io ho fatto come dicevo una tesi laurea nel 98 25 anni fa comunque l'elettorato in Italia era 75 80% oggi andiamo sulle percentuali che ai tempi già c'erano in America per cui anzi paradossalmente il trend si sta invertendo votano quasi più negli Stati Uniti che in Italia per cui secondo me assolutamente diciamo quella è una conseguenza come in qualsiasi cosa sì io farei più un'attività fondamentalmente non tanto di rebranding perché secondo me lei contenuti ce li ha tutti quanti più che altro di modalità di comunicare una serie di contenuti una serie di di proposte ma questo sicuramente lo staranno decidendo a livello anche di di partito fondamentalmente come dire quello che io riscontro sempre ma questo in generale è che anche nella comunicazione spesso purtroppo c'è una forte frammentazione nella 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 parte di sinistra invece c'è più coesione in quello di destra e lo vediamo anche appunto la pagina ufficiale da Meloni che richiama non solo richiama la pagina del partito non solo la prima azione che richiama il tesseramento nazionale richiama le pagine del senato dei senatori di fratelli d'Italia dei deputati fratelli d'Italia e un'altra sezione al partito europeo del quale fa parte Meloni quindi c'è un legame identitario ma questa è una cosa che non riguarda la comunicazione queste storie cioè è un approccio storico che viene riportato così come una comunicazione magari più passatemi il termine bella gradevole perché comunque la grafica Lash Lane dal mio punto di vista è bellissima per scelte di colori per una serie di colori cioè non è è più ricercata tuttavia sui contenuti puoi anche fare secondo me una comunicazione bella e ricercata però sui contenuti magari una parola in più sulla manifestazione di Firenze per dire che cos'è io ce l'avevo rimessa fondamentalmente la lingua la lingua seleziona il destinatario no? e quindi sono diversi e quindi creano anche però ad esempio io farei più una scelta di andare anche su canali che sono meno battuti dall'altra parte cioè io su Instagram insisterei tantissimo perché potrei andare a trovare quegli elettori che oggi non votano nessuno di due eh sì perché non è cioè anche là è una scelta è come quando uno faceva una scelta che dove andavo su quale tv facevo la su quale canale facevo la pubblicità o su quale quotidiano ad affare la pubblicità anche là fai una scelta vai su quello dove già sono presenti su quello invece dove vuoi andare sugli indecisi cioè bisogna dosare e infatti guarda perfettamente imbattuta Alessia scrive a mio parere l'utilizzo dei social da parte del politico è importante soprattutto per noi giovani che non seguendo molto la tv parlo nel mio caso spesso non riusciamo a capire ciò che succede mentre sui show social riusciamo a captare meglio gli argomenti che si affrontano probabilmente Instagram ti ricordo di più Berlusconi ha utilizzato TikTok questa lezione ed è stato l'esordio su TikTok più partecipato della storia di TikTok cioè per dirla al di là delle considerazioni comunque da un punto di vista di comunicazione a parte che l'unico che ha cominciato nel 94 dopo 30 anni ancora si inventa una cosa che non si è inventato nessuno per dire quindi secondo me le strade ci sono sono da fare sempre rispetto a come qualsiasi azienda un'azienda deve essere coerente con quello che vende con la sua filosofia con il suo approccio e secondo me la comunicazione della Cerenna in questa direzione è perfetta tuttavia deve capire bene come tecnicamente sfruttare quei mezzi né più né meno non è una scelta che io faccio che da solo posso fare qualcosa voi dovete avere dei professionisti che mi consentono di come dire veicolare al meglio il mio messaggio anche perché i messaggi della Cerenna ad esempio sono molto attenzionati dai giovani senza nessun pensiero che dice oddio questa sta andando troppo a sinistra e che no magari uno pensa una cosa del genere per i diritti dei gay piuttosto che per altre cose e comunque sono dei temi che sono ormai ampiamente come dire acquisiti dai giovani che certo non si scandalizzano per una cosa del genere per cui magari è importante invece da questo punto di vista assolutamente come dicevo appunto che era Alessia mi sa Alessia utilizzarli appunto per perché sicuramente sono il punto di ma chi vede più la televisione cioè non la vedo io figuriamoci di 90 anni certo per cui però anche là i social sono molto diversi tra di loro sono molto diversi tra di loro a me supisce no vabbè non lo dico ancora vediamo se c'è qualche altra domanda e poi l'ultima è Stefania che parla di Gpt mentre parlavi pensavo ora gli chiederò di tenere un seminario anche su questo però vabbè l'Italia è la prima nazione a bloccare l'utilizzo di Gpt a cose dei problemi legati alla privacy lo stop potrebbe venire già a partire da domani dall'esperimento fatto dal prof si vince come non sia ancora ben strutturato e non colga le differenze o sbaglio sì diciamo ma diciamo che secondo me è un tema molto molto complesso sicuramente andrebbe su questa cosa ne avevamo anche parlato se non sbaglio no di intelligenza artificiale allora diciamo che Gpt può essere molto utile come tutto quello che afferisce c'è un momento dell'agenza artificiale per dare un po' un supporto ad esempio nell'elaborazione di contenuti eccetera però tante cose oggettivamente c'è delle sfumature non possono essere colte quello che io vi ho riportato non era ovviamente un giudizio di metodo sul chat di Gpt ma era un po' un gioco per far vedere che se avesse interrogato soltanto quello non avrei capito quali erano le differenze fra l'una e l'altra perché ovviamente tante cose anche perché alcuni aspetti non possono neanche essere analizzate nel senso che non possono entrare all'interno dei canali social a fare una sorta di analisi di tutti quelli che sono i post pubblicati eccetera e quindi tante sfumature non vengono non vengono ritrovate c'è stato qualche giorno fa Gori il sindaco di Bergamo ex Mediaset che ad esempio non so se avete sentito che diceva mi sono ritrovato facendo un'interrogazione a chat Gpt che mi diceva che avevo scritto tre libri che non ho mai scritto o che aveva sbagliato pure l'università dove sarà laureato per cui il fatto di bloccare per la privacy francamente secondo me non mi trovo molto d'accordo cioè nel senso che comunque va tutto normato va tutto regolamentato però questi sono tutti fenomeni che vanno ben capiti subito da tutti secondo me è molto importante che anche all'interno università ne parliamo affrontiamo questi temi perché non vanno né demonizzati né allo stesso tempo bisogna esaltarsi inutilmente perché tanto ogni anno c'è un trend tre anni fa c'è stato Clubhouse poi ci sono stati i NFT poi c'è stato il metaverso e oggi c'è chat Gpt i NFT continuano a esserci magari senza quel clamore di prima il metaverso c'è chi lo abbandona e chi continua a lavorarci ma del resto poi farò anche qua una lezione sul metaverso nel mio corso perché comunque sono tutti tutti aspetti comunque fanno riferimento anche a dei trend innovativi che ci sono e che bisogna e che bisogna comprendere poi io cito sempre il grandissimo Umberto Eco sui social che già ai tempi diceva che aveva dato spazio a tanti leoni da tastiera eccetera effettivamente è così e quindi era un genio Umberto Eco che vedeva molto più in là di quello che poi realmente vedevano gli altri per cui anche lì per questo dico il fatto c'è la prima domanda sulle eventuali critiche ma le critiche ci saranno sempre oggi c'è soltanto un accesso più come dire semplice a dei mezzi tutto qui e quindi questo accesso consente una serie di cose tuttavia secondo me è molto importante capire qual è il confine e come regolamentare delle cose ma non che le regole devono limitare uno sviluppo di qualcosa ma comprendere quelli che sono i fenomeni legati al mondo dell'innovazione e capire come questi possono essere sfruttati al meglio poi tutto viene cioè ad esempio sugli NFT quando io fece una lezione già l'altro anno c'era delle polemiche dicendo ah perché con gli NFT tutti si possono fare truffe ma le truffe si fanno in qualsiasi modo non c'è bisogno degli NFT cioè è sempre la modalità con le quali utilizzo le cose ma questo è sempre stato così c'è la televisione che era un problema per il cinema il cinema per la radio e così via no? se vogliamo andare al mondo della comunicazione certo e un'ultima domanda una piattaforma come Twitch predominata esatto da una demografia di ventenni che non seguono attivamente la politica non potrebbe impattare in modo positivo all'esposizione del politico? chi mi fa la domanda? è Karim è Karim gli diamo un premio perché io con questa domanda mi aspettavo era la domanda cercata no ma aspettavo esatto perché secondo me più che la presenza l'analisi è sull'assenza cioè sui canali social che non sono utilizzati allora Twitch secondo me che non la conoscono proprio tanti e sono d'accordo Twitch è una piattaforma secondo me molto utile soprattutto rispetto a una platea che cambia quindi sì io credo che tuttavia sai qual è il punto che queste piattaforme andrebbero utilizzate al momento in cui poi ne conosci i meccanismi spesso invece il fatto che è talmente semplice creare un account e questo dico tante aziende pure hanno creato tanti account poi si ritrovano tutti questi account che non sanno che farne oppure magari non sono c'è un'assenza di contenuti per mesi che è soltanto un danno in termini di immagine e di comunicazione quindi Twitch secondo me è abbastanza come dire complessa come meccanismo da capire quindi però io sono assolutamente d'accordo secondo me negli Stati Uniti non ne sono sicuro però lo voglio indagare questa cosa secondo me è utilizzata l'altra domanda quindi sì secondo me potrebbe impattare in maniera molto interessante ma devi saperla utilizzare perché altrimenti poi anche lì diventa un boomerang l'altra domanda ad esempio c'è un canale social che è il mio preferito che nessun politico si fila di striscio che è LinkedIn che secondo me soprattutto vuoi dire i politici che hanno che poi sono un po' tutti però magari alcuni più di altri come riferimento le imprese i professionisti io non capisco perché non lo utilizzano perché e tra l'altro LinkedIn è un canale dove non c'è quella quell'odio che ritroviamo su un canale come Facebook dove ti dicono di tutto di più certo cioè gli ether non ci sono su LinkedIn cioè vengono veramente spazzati via in un secondo per cui invece probabilmente che diciamo la risposta c'è pure LinkedIn è una community professionale per cui tendenzialmente si vede meno adatta però secondo me capire una modalità per poter diciamo veicolare dei contenuti che non siano diciamo di propagandolo ovviamente non posso andare lì e fare un posto sulla festa del papà evidente dovrei fare un contenuto differente però come dire la politica ha un impatto sulle imprese cioè se io racconto che c'è un faccio un esempio un decreto che ha la finalità di ridurre le tasse piuttosto che attuare delle politiche di decarbonizzazione delle politiche di innovazione eccetera sono un imprenditore potrebbe essere interessato ad avere queste informazioni quindi questo è interessante la latitanza su LinkedIn dei dei politici propongono anche Reddit Reddit in Italia è poco diffuso è poco diffuso e poi non essendo o essendo poco visivo diciamo è troppo complicato Reddit un social che è stato un po' sperimentato ma in realtà perché non ha avuto il successo aspettato è stato Clubhouse Clubhouse perché alla fine poi quello sarebbe perfetto per i politici che solo voi si fai i comizi no? tant'è vero che all'inizio proprio in realtà proprio all'inizio della diffusione di Clubhouse in Italia quindi che era inizio del 2021 se non erro c'erano io lo seguivo c'erano tanti politici che venivano tirati in ballo lì e andavano lì e parlavano di un po' di tutti gli schieramenti mi ricordo c'era di tutto Gasparri che faceva comunque non mi ricordo se era lui o qualcuno comunque un bel po' di politici sicuramente tanti del Movimento 5 Stelle che lo utilizzavano e andavano là in questo room invitati anche da altri a raccontare delle cose perfetto abbiamo tenuto il professor Filetti in ostaggio per un'altra mezz'ora ci scusiamo è di che piacere è stata una lezione veramente veramente molto bella io vi ricordo che rimarrà registrata e credo messa su YouTube e quindi gli altri che non sono riusciti a raggiungerci la possono recuperare grazie mille Vincenzo una lezione grazie e grazie a voi a tutti arrivederci grazie a tutti